Vincenzo hai detto una settimana in preparazione a Brindisi un po' particolare, un po' strana? Sicuramente non ero soddisfatto dell'inizio partita con Cremona e volevo questa settimana dalla squadra un atteggiamento, un fuoco dentro maggiore per poter andare a Brindisi e giocare la partita al massimo dell'intensità. Ho notato impegno di edizione, però sicuramente durante la settimana ho notato un pizzico di rilassamento, spero di sbagliarmi e lo vedremo poi in campo. Tra l'altro a Brindisi troverete una squadra ferita, una squadra che viene da un momento particolarmente negativo, col meno 36 di Trento? Questi sono problemi che riguardano la classifica di Brindisi, non devono riguardare noi, proprio a questo mi riferisco. Noi non dobbiamo guardare classifica, problemi delle altre squadre, dobbiamo guardare solo in casa nostra, dove ogni giorno in allenamento, ogni domenica o il giorno che sia della partita, dobbiamo entrare in campo come se fosse l'ultima partita della stagione o per lo scudetto o per la salvezza. Al Palaprenta a Sulla conviene correre o controllare? Sappiamo cosa ci troveremo di fronte, una squadra a cui piace correre, giocare tanti possessi e soprattutto cercare spesso il tiro da tre, e quindi controllare il ritmo, comunicazione difensiva immediatamente e evitare la loro transizione che nei primi secondi può essere letale, non solo per noi ma per qualsiasi squadra del campionato italiano. Una chiave di questo incontro che potrebbe essere? Il controllo delle palle perse, cercare di limitare le palle perse, dove sicuramente siamo migliorati nelle ultime settimane, lo dicono anche le statistiche, però farlo ancora di più contro squadre con le caratteristiche di Brindisi, perché esporsi al loro contropiede, ai loro lunghi che corrono e tirano da tre, può aprire una voragine nel punteggio difficilmente recuperabile. Una parola anche su quanto purtroppo è accaduto la scorsa notte, Caserta dello Scudetto ha perso un giocatore, Charles Sheckford, e te, penso, un compagno di squadra e un amico. Sì, è una persona speciale per me e per tutti i compagni di squadra, un personaggio oltre che un grandissimo giocatore, nonostante sono passati oltre 20 anni, è una storia molto triste, dispiace davvero a 360 gradi per come è avvenuta, dove è avvenuta e soprattutto per un personaggio spettacolare che ha lasciato il segno grosso nei tifosi casertani e anche in un giovane Vincenzo Esposito. Hai detto in conferenza stampa praticamente un fuoriclasse? Giocatore fuoriclasse, soprattutto con quelle statistiche, roba che oggi non si vede più.